Grazie Presidente, qui per dire che sembra che non ci interessiamo del benessere degli animali, lo sa il Consigliere Figliomeni come la penso e come la pensiamo che non è così. Il Consiglio è finale 18, verrà calendarizzato il Consiglio straordinario su Muratella, adesso il nostro capogruppo si accorderà con voi per decidere quando, c'è tutto il nostro interesse ma sappiamo che i problemi non li risolviamo qui, qui facciamo solo bagarre e strumentalizzazione di un tema che invece dovrebbe rappresentare un po' la volontà di tutti quanti, quella di garantire il benessere degli animali, insomma il resto sappiamo e sappiamo noi quello che stiamo facendo su Muratella e sul tema del benessere degli animali. Grazie Presidente.